Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con di prima mattina la rassegna stampa di Super J, in questo sabato 24 agosto 2024 si celebra San Bartolomeo, il buongiorno da parte mia e da parte di Giancarlo Rapagnà in regia. Come al solito andremo a sfogliare i quotidiani Il Messaggero e il Centro, ma prima andiamo a vedere le ultime notizie che troviamo su rainews.it, siamo in Germania, l'attentato a colpi di coltello tra la folla, tre morti a Solingen e caccia all'uomo, le prime immagini dopo l'attentato, l'attacco è stato sferrato con un coltello durante un festival cittadino dedicato alla diversità. Il giallo di Terno d'Isola con l'omicidio di Sharon Verzeni, cosa non torna, le telecamere e il punto cieco, i carabinieri che prendono il pc e i cellulari e poi spuntano le ultime dichiarazioni proprio di Sharon, mi ha accoltellato l'ultima frase. A Caserta, badante confessa quattro amicidi, volevo porre fine alle loro sofferenze. Due le vittime identificate, le loro morti non erano sospette. Il naufragio in Sicilia, recuperato il corpo di Anna, la famiglia Lynch ringrazia l'Italia, la studentessa pronta per Oxford, ora il recupero del relitto del Bayesian Tennis, Yannick Sinner licenzia il fisioterapista e il preparatore atletico del caso Clostebol in conferenza stampa, non ho fatto niente di male. Queste le dichiarazioni del numero uno del tennis mondiale, poi troviamo anche la notizia che ci riguarda da vicino, è morto a 79 anni Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo, è stato anche segretario nazionale del PSI e vice della CGL, nonché ex ministro delle finanze, la notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri. Da RaiNews.it passiamo al quotidiano Il Messaggero, edizione nazionale, il titolo di apertura, PNRR, Giorgetti in calza, l'Unione europea, il ministro Arrimini, piano sovietico, battaglia per allungare le scadenze oltre il 2026, critiche al patto di stabilità e di breve respiro. Stati Uniti, Powell annuncia il taglio dei tassi. E poi a proposito di Stati Uniti, Kamala, candidata e moderata, sarà la presidente di tutti, chiusa la convention dei democratici, Kennedy Junior, votate Trump. Queste le sue dichiarazioni. Il badante a caserta confessa, ha ucciso 4 anziani, si consegna ai PM, soffrivano, aiutatemi a non farlo più, due vittime della provincia di Latina. La telefonata di Sharon, il compagno in caserma, mi ha accoltellato. Queste le dichiarazioni di Sharon Verzeni. Ancora per quanto riguarda il messaggero quotidiano d'Abruzzo, sulla prima pagina nazionale c'è la notizia che è arrivata anche questa nella tarda serata, ma di giovedì sera, nella nottata, imprenditore ucciso da un'auto pirata, caccia a due giovani. Poi anche in questo caso andremo ad approfondire. Dal quotidiano il messaggero, nel frattempo ci spostiamo al quotidiano il centro per andare a sfogliare le prime pagine delle quattro edizioni. Siamo a Pescara, spara sulla riviera e ferisce due persone. Pescara butta fuori, nega l'ingresso, il 28enne fa fuoco e è accusato di tentato omicidio. Imprenditore travolto e ucciso da un'auto pirata a Giulianova, identificato l'investitore, tragedia sul lungomare. La vittima è Giuseppe Montini, 60 anni. Francavilla rissa tra 20 persone dopo i fuochi, intervento dei carabinieri. Due inchieste sull'aereo precipitato, si cercano le cause dell'incidente a Terni, guasto tecnico o errore umano. E poi, anche ieri pomeriggio, la notizia dello studente tedesco trovato senza vita sul Gran Sasso era sparito dal 9 agosto. Sono svanite le speranze di ritrovarlo in vita. I titoli sotto la testata, la tragedia di Fossacesia. Ragazzi morti in moto dovevano festeggiare l'esame di maturità. E poi la notizia che vi abbiamo detto in precedenza, addio all'ex presidente della regione Ottaviano del Turco, aveva 79 anni. La fotonotizia riguarda lo sport. Ieri sera c'è stato il debutto in Serie C per le due abruzzesi. Pineto Lucchese 0 a 0. Il Pescara invece di Baldini vince e convince. La Ternana va a picco, colpo in trasferta 2 a 1 grazie alle marcature di Bentivegna e Dagasso per la squadra di Baldini. 0 a 0 invece del Pineto, come abbiamo detto in casa. Morto per l'uranio, sì ai danni, condannato il Ministero della Difesa. Dovrà risarcire l'erede. Il caso del colonnello Acquafredda. Siamo a Montesilvano, a Catignano. Due giorni di festa e rap per ricordare Christopher. E poi la febbre del Nilo. Nuovi casi nel Vastese. Il virus dalle zanzare, come vi stiamo anche informando nei nostri spazi informativi. Dalla prima pagina di Pescara ci trasferiamo a quella di Teramo. Il titolo di apertura muore travolto da un'auto pirata. Giulianova vittima all'imprenditore sessantenne Montini, identificato l'investitore. Ricostruzione, la privata corre, quella pubblica è solo al 12%. A 8 anni dalla prima scossa parliamo del post-sisma e vediamo in foto anche il commissario Guido Castelli. Spari a Pescara due giovani feriti, fermato 28enne, tragedia sfiorata, mentre a Tortoreto torna a parlare la mamma della giovane precipitata dal viadotto da 9 anni. Chiedo giustizia per Giulia. Non suicidio, ma omicidio. Bimbo sparisce, trovato dopo ore, percorre 8 km a piedi per arrivare a Giulianova, era scomparso da Alba Adriatica. Viale Bovio, traffico sconvolto per lavori dalla prossima settimana, mentre come abbiamo detto, calcio di serie C, Pineto parte con 1-0-0, Tonti ferma la Lucchese. Questo è il titolo di apertura per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda il quotiano e il centro, edizione di Teramo. Noi ci trasferiamo all'edizione di Chieti. Lanciano è vasto, diventa il titolo di apertura, quello che abbiamo visto in precedenza, sono morti alla festa per la maturità. Lanciano piange Carlo, 18 anni e Giorgia, 19. Fatale il giro insieme sulla moto. Sotto la testata in questo caso si torna a parlare dell'omicidio di Ortona, ci sono le indagini, Lorena strangolata dentro casa, si cerca l'arma del delitto. Finisce in cella l'imprenditore Ignazio Anello, era latitante, deve scontare più di 9 anni il blitz della polizia a Chieti. Francavilla, scoppia la rissa dopo i fuochi, pugni, calci e spintoni tra 20 persone, in piazza Sant'Alfonso arrivano i carabinieri. Acqua verso la richiesta danni, manifestazione in piazza, ora la Sasi, sospenda le bollette, la protesta del comitato civico ad Ortona. Virus dalle zanzare, febbre il nero, altri casi di puntura nel Vastese, sempre a Vasto, blitz sui lidi, sequestrati 80 ombrelloni e 90 sdraio. E chiudiamo con la prima pagina dell'edizione del centro di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, si accende la luce della perdonanza, via al Giubileo Aquilano con i tedofori nati 15 anni fa, Renato Zero incanta a Colle Maggio. Aggredita e rapinata al terminal del bus, la 19enne sotto sciocchio e la mia amica colpite con un oggetto metallico, questo è successo a Pesca, all'Aquila. Ancora per quanto riguarda la polemica ad Avezzano, negozi chiusi, ira dei confesercenti, il Presidente Figliolini, qui imprenditori poco propositivi. Massadalbe, carabiniere di 102 anni, festeggiato dall'arma. A Cassel di Sangro investì l'orso Carrito, la denuncia, denuncia l'odio social. Questo per quanto riguarda anche la prima pagina del quotidiano del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Allora noi torniamo al quotidiano Il Messaggero per sfogliare le pagine interne e andiamo a vedere anche la notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri. Addio all'ex governatore del Turco, la CGL, il PSI e il Calvario giudiziario. Ex senatore e ministro delle finanze guidò l'Abruzzo fino all'inchiesta per una vicenda legata alla sanità. Era malato da tempo. I primi passi dell'articolo, alla fine anche la sua proverbiale tempra, ha dovuto arrendersi alla violenza di una malattia, una leucemia, che lo ha segnato pesantemente nel corso dei suoi ultimi anni di vita. È morto nella tarda serata di ieri a 79 anni Ottaviano del Turco, denominato l'Orso Marsicano. Ex governatore della regione Abruzzo, a luglio del 2005 vinse le elezioni contro il presidente uscente Giovanni Pace, a luglio del 2008 fu costretto a dimettersi a causa di una roboante inchiesta della procura di Pescara. Ancora per quanto riguarda le pagine del quotidiano Il Messaggero, andiamo a sfogliare le pagine interne. Il titolo di apertura è dedicato sia alla perdonanza, ma anche a quanto è successo a Giulianova. Ucciso da un'auto pirata, Giuseppe Montini, re dei vivai, falciato a morte sulle strisce a Giulianova, aveva 60 anni. Testimoni era una supercar, caccia a due giovani. A proposito di giovani, l'altra tragedia, Lanciano piange ai due amici, ragazzi morti sulla moto, regalata per la maturità. Renato Zero, emozioni all'Aquila, sul palco a Collemaggio, il Via La Perdonanza, con tanti big della musica. La cerimonia con la fiaccola che accende il fuoco della pace. I titoli sotto la testata. Gran Sasso, trovato il corpo dello studente tedesco, sarebbe caduto nel canalone. Ortona, Lorena strangolata, la sorella. Adesso voglio la verità. A Pescara non lo fanno entrare, lui spara due feriti alla discoteca Maya. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, lo sport. Pescara, Terni, la prima gioia. Il Delfino vince due a uno. I gol di Bentivegna e Dagasso decidono il match per i Biancazzurri. Prestazione da incorniciare, sempre in Serie C. Pineto un punto con la Lucchese per cominciare. Ancora lo spettacolo. Francavilla vince il derby dei fuochi artificiali sul mare. Pescara, piloti precipitati acquisiti, atti all'Areo Club. E allora entriamo nelle pagine interne del quotidiano Il Messaggero, la pagina dedicata all'Abruzzo. Scuola, emergenza precari, in ruolo soltanto uno su tre, bidelli e personale amministrativo, 289 stabilizzazioni per 861 posti. Formazione per i supplenti che dovranno occuparsi di quasi 8 mila studenti disabili. Caccia al cervo, 60 mila no. Anche i turisti sono contrari. La petizione presentata dagli ambientalisti raccoglie 10 mila firme ogni giorno. Le pagine dedicate alle quattro province. Iniziamo da Pescara, litiga col buttafuori e fa fuoco una strage evitata sulla riviera. Spari ad altezza Duomo, di fronte alla discoteca Maia, feriti due giovani, fortunatamente soltanto di striscio. Fermato dopo poche ore, giorni di Pietrantonio, il 28enne con all'attivo altre imprese del genere. Respinto all'ingresso perché in compagnia di una minorenne senza documenti è tornato poco dopo armato di pistola. Pettinari, l'esercito è un'idea mia, lo scontro sulla sicurezza è intervenuto il consigliere comunale e leader del Polo Civico, Domenico Pettinari. Due mesi fa l'omicidio di Crocs, la nonna lo ricorda con una foto. Olga Cipriano ha affidato alla pagina Facebook una lettera piena di dolore per il nipote ucciso. Ancora per quanto riguarda Pescara, aperte due inchieste sull'aereo precipitato d'Ortenzio dell'Aero Club, ieri in questura il velivolo era stato controllato da poco. Procura e Ansv hanno aperto fascicoli, pilota Ava, sciannimanico, ipotesi malore. La magistratura a Terni ha raccolto testimonianze e sta eseminando i rottami del mezzo sotto sequestro. Stallo in cabrata o invirata tra gli scenari dietro lo schianto va decisa l'autopsia sulle due vittime. Stazione, la rivoluzione del traffico, in arrivo sensi unici e parcheggi. Da giovedì in vigore le modifiche con l'obiettivo di recuperare parte dei posti auto dell'area di Risulta. Montesilvano, inaugurato il pattinodromo, tutto pronto per il World Skate Games che ci saranno a settembre. Viene d'annunzio il gradino che falcia pedoni e ciclisti con una donna che è caduta ieri. Vediamo la foto. Siamo all'Aquila, disperso sul Gran Sasso, recuperato il cadavere. Lo studente tedesco Lewin Weituschat era scomparso dallo scorso 9 agosto, corpo trovato nella zona di Monteprena. Un testimone l'ho visto con gli infradito. Il 25enne sarebbe precipitato per un dislivello di oltre 4.400 metri. L'Associazione Vado, Tordera, Presidente, l'assistenza ai malati e poi ancora l'Ite per un posto a sedere nel locale, giovane in ospedale con il naso rotto. L'ospedale San Salvatore, 29 trapianti in due mesi, nosocomio, centro d'eccellenza. Ancora per quanto riguarda l'Aquila, perché c'è in corso la 730esima perdonanza celestiniana, Renato Zero che incanta il teatro del perdono, migliaia in visibilio per la serata evento che ha aperto il programma della settimana. Sul palco anche dei Colors, Tiro Mancino con la pesce di Martino e Malika Aiane. Acceso il braciere della pace, Celestino sia la bussola. Il cantautore romano grande star, qui si vola Zampaglione, scenario unico. Il sindaco Biondi ha ricordato l'ex primo cittadino Antonio Centi e lo studente morto in montagna. Stasera a San Bernardino, le grandi stelle della danza, la madrina bagnato, felicissima di tornare in questa città meravigliosa. Ancora per quanto riguarda le pagine dedicate all'Aquila, siamo nella provincia dell'Aquila, l'orso ai piedi del velino, vademecum del comune, ordinanza del sindaco di Massadalbe dopo le numerose incursioni dell'animale, avvistamenti fino a Casale del Monte, corrazie nelle stalle, negli allevamenti. Scatte il divieto di alimentare gli esemplari e di illuminarli con qualsiasi mezzo, smartphone inclusi. Bimbi nelle viscere dei cunicoli di Claudio, il 28 e 29 agosto il parco apre ai più piccoli. Treni più veloci da lunedì sulla tratta per l'Aquila aumenterà la capacità della linea con tempi di percorrenza ridotti. Vigili urbani, una nuova assunzione, ma l'organico resta ancora dimezzato, il comandante Giannetta servirebbero altri agenti, eppure riusciamo a garantire i servizi. E poi come abbiamo visto anche nella prima pagina, Massadalbe, Ugo compie 102 anni, festa con i carabinieri e lui è un carabiniere in congedo, Ugo di Giovan Battista. Assulmona, positivo all'ascisce, motociclista ferito grave. Le pagine dedicate a Chieti, voglio la verità su Lorena, per seguire l'inchiesta, la sorella nomina un legale. Ho già avuto un primo contatto con il PM, Falasca, dice l'avvocato Francesca Di Muzio. La famiglia conferma i sospetti sul marito, Andrea Ceri, indagato per omicidio aggravato. In preparazione, i funerali in forma privata della donna uccisa domenica scorsa a Ortona. Parcheggi che a fare per il comune l'incasso supera i 300 mila Euro, primo bilancio della gestione diretta del servizio dopo il crack di teatre e servizi. Ignazio Anello, fine della titanza, arrestato per scontare 9 anni. Il palermitano, residente a Chieti, rientrato dalla Romania, giovedì il blitz della mobile. Villa, lo scontro sui laghetti, tartarughe da spostare. Ancora, per quanto riguarda le altre pagine di Chieti, la tragedia sulla moto, il regalo per la maturità, Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio avevano appena 18 e 19 anni, due famiglie distrutte. La rimpatriata tra amici dopo il diploma, Vincenzo, li ho visti schiantarsi sul palo. Il ragazzo aveva offerto agli amici un giro in sella, la sua Honda 750 depotenziata, poi la disgrazia. Per i gabinieri di Ortona, una scena straziante, la procura ha sequestrato il mezzo. Un dramma che sconvolge tutti, Paolini programma il lutto cittadino. Profondo cordoglio espresso dai sindaci di Lanciano e Fossacesia, ma anche dalla ASL, non ci sono parole. Protesta davanti alla sede della Sasi, class action per i rubinetti, a secco la mancanza d'acqua. Notte bianca a Ortona, shopping e spettacoli. Siamo alle pagine dedicate a Teramo. Ipogeo, lavoro in corso, ancora caos traffico. Il cantiere va avanti fino a ottobre per i teramani, un mese in più di disagi. L'assessore di Marcantonio, intervento reso ancora più complicato dal caldo. Sul mercato coperto si attende il parere della sovrintendenza, a breve il restyling del teatro comunale. Via Lebovio, gli asfalti, partono i lavori. Bimbo si perde e cammina per 8 chilometri sul litorale, figlio di turisti romani in vacanza. Ad Alba è scomparso all'area animazione di uno chalet trovato a Giulianova. A Basciano, camper ambulatorio per la nutrizione. E siamo ancora alle pagine di Teramo, ma dedicate alla costa. E qui addio a Montini, re dei vivai, ucciso da un'auto pirata. Giulianova aveva 60 anni, falciato a morte mentre attraversava sulle strisce sul lungomare. La rabbia dei testimoni era una supercar a bordo, due giovani già identificati. Grande commozione per la scomparsa di un imprenditore molto conosciuto e attivo sul litorale. Noi a tal proposito andiamo ad approfondire con un servizio che è andato nella nostra edizione di ieri del telegiornale. Portano dritte a Tortoreto le indagini sull'omicidio stradale di questa notte a Giulianova. I carabinieri del Norm della compagnia di Giulianova hanno localizzato il SUV nero con targa tedesca che intorno all'una della scorsa notte ha travolto e ucciso l'imprenditore giuliese di 60 anni Giuseppe Montini mentre attraversava sulle strisce pedonali il lungomare Spalato all'altezza dell'incrocio con via Messina. Due i soggetti che erano a bordo del SUV e che dopo aver travolto Montini si sono dati alla fuga a tutta velocità scappando per via Venezia imboccando la in senso di marcia opposto e seminando diverse auto sulla nazionale direzione Tortoreto. Ed è qui che è stato rinvenuto il borsello di Giuseppe Montini che nell'impatto era rimasto agganciato allo specchietto laterale del SUV. Decine i video di telecamere e semafori già sequestrati al baglio degli inquirenti. In caserma sono stati sentiti numerosi testimoni. Tutti hanno confermato che quel SUV è arrivato addosso all'imprenditore a tutta velocità da sud verso nord e lo ha centrato senza alcun tentativo di frenata. Tutti riferiscono poi della fuga a contromano tra le vie dietro Bracegrani dove lo stesso SUV ha sfiorato alcuni camerieri fortunatamente spostatisi in tempo. In caserma in queste ore si è presentato un soggetto che verosimilmente potrebbe aver avuto un ruolo affatto marginale nella tragedia di questa notte. Sono in corso tutti i riscontri del caso. Giuseppe Montini era appena passato a salutare una delle due figlie che lavora al bar Giro di Boa, poi si stava dirigendo verso il marciapiede che costeggia la casa del marinaio mentre attraversava la tragedia. La salma è stata restituita ai familiari, i funerali si svolgeranno domani alle 17 al Duomo di San Flaviano a Giulianova. Unanimi i ricordi di Montini come di un gran lavoratore, una persona per bene, per anni vivaista dell'omonimo vivaio, sempre a Giulianova e da qualche anno anche titolare di un caliscendi al porto. Appassionato di pesca e di moto, lascia la mogliettina e le due giovanissime figlie, Roberta e Caterina. Andiamo avanti con la rassegna stampa, con il quotidiano Il Messaggero, si lancia dal ponte del Salinello, morto dopo un volo di 130 metri. Trovata senza vita dal marito, l'autopsia conferma il malore, siamo a Santomero, anche di questo vi abbiamo detto nei nostri spazi informativi, non c'è giallo dietro il decesso di Maria Lepore, è caduta dalle scale dopo il malessere. Ex depuratore occupato, si prepara lo sgombero, siamo sempre a Giulianova e poi una storia del personaggio, l'edicolante Antonio Di Salvatore diventa clown per i piccoli pazienti con l'associazione Zupiru. Ancora giorno e notte, Francavilla, l'incanto dei fuochi, siamo agli eventi in Abruzzo e migliaia sulla riviera per lo spettacolo, vinto nettamente il derby con Pescara. Sara Di Minni al Caffè del Mar, il diritto alla felicità teatriamo ci chiude con Pino a Mendola, penne oggi tiro mancino al Festival del Medioevo, Tortoreto da ridere, serata cabaret con Gene Gnocchi e Fontana. Ancora altri appuntamenti, siamo alle pagine sportive, Pescara prima da grandissima, sul difficile campo della Ternana, arriva la vittoria all'esordio in campionato 2-1, vantaggio con Bentivegna, pari di Carboni, il gol di D'Agasso vale i tre punti, Baldini avevo visto giusto, la squadra è cresciuta molto. L'altro anticipo di Serie C che ha visto l'altra Bruzzese, Pineto un punto per iniziare, un pari contro la Lucchese che poteva essere qualcosa in più se Bruzzaniti avesse trovato la rete a pochi minuti dal termine. I toscani nel complesso hanno meritato di non perdere, Tonti si è dimostrato decisivo, finale più movimentato, gli adriatici hanno concluso con 4 attaccanti, ma i rossoneri hanno retto bene all'urto, Cudini rammaricato, potevamo vincerla. E poi la Serie D che in questo fine settimana parte con alcune gare di Coppa Italia, ma la maggior parte delle formazioni abruzzesi entrerà in gioco da domenica prossima. Chieti la società stringe per il duo Bairami di AB, il DS Michele Ciccone sta valutando anche una giovane mezzala. L'Aquila amichevole a Rieti, prima dello start ufficiale, ultimo test domani, prima dell'esordio, il primo settembre contro il Notaresco. A proposito dei Notareschini, oggi col Varano, poi riflettori sulla Coppa, Rigoni, la squadra si sta conoscendo e stiamo crescendo, amichevole, appunto per il Notaresco. C'è una notizia di mercato di eccellenza con il Giulianova che il club ha acquistato, Daniele Salvatelli, difensore classe 2001, che ha giocato nel campionato di San Marino, ma anche con la San Giustese, ovviamente l'Aquila Notaresco domenica prossima, il Chieti entrerà in campo dalla prossima settimana, mentre domani si giocherà comunque nel turno preliminare di Coppa Italia la gara tra Isernia e Teramo, debutto ufficiale dei Biancorossi ad Agnone allo stadio Civitelle contro l'Isernia. E allora, con questa notizia è tutto per quanto riguarda questo appuntamento con Di Prima Mattina, grazie a Giancarlo Ravagnà in regia, grazie a voi tutti che ci avete seguito, alle 9 vi ricordo l'appuntamento con a colazione, alle 14 alle 19 i nostri due spazi informativi. Grazie a voi tutti, buon fine settimana. Grazie a tutti, buon fine settimana.